beni beni ragazzi benvenuti in questo nuovo video di cucine nerdose è tipo la quarta volta ragazzi che succede la mettiamo qua e oggi non sono solo beh io sono Dregone69 come c'è venga codio il satanico codio e invece stariamo codio come cameraman bene adesso cominceremo con gli nostri ingredienti ad impastare non vedete tante facce perché abbiamo una telecamera bella quindi attaccate e 90 fate male non abbiamo i big moli prendiamo il nostro macinato fatto di carne di soia perché lui è vegano vedete ecco qui il nostro macinato prendiamo il nostro uovo o anche più di uno come volete lo rompiamo dentro e andiamo a mescolare ho le mani così vicine ora adesso mettiamo il nostro pangrattato ma questi sono i cosi finlus che cazzo dici me lo metti dentro come faccio dai sveglia questo è un video più 18 ragazzi dimmi quanto no basta basta perché è qua che aspetta è qua che aspetta io sto facendo le grandi facce buffe ma non mi vedete ho oh 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 altro pangrattato cazzie dove cazzo non capisco come cazzo ok poco ti dico io quanto senchio l detto poco Mettiamo la paprika sulla nostra carta da forno, se non avete carta da forno usate la carta igienica lo stesso Ben tornati sulla cucina nerdose, qui abbiamo fatto i nostri hamburger di cui uno ho fatto molto speciale per il nostro amico speciale Sono due, due speciali, di cui questi tre vanno insieme a questi tre, ovvero doppi, uno normale, no due normali, mentre qui abbiamo il nostro big bustarolo Eccolo qua Adesso andiamo a rifinire con la nostra paprika, gli ultimi hamburger, ovvero le ricopriamo sopra E... Halloween è arrivato, stronze! Tanto non vedrete mai questo video, prima di Halloween, lo vedrete a Natale se tutto va bene Quindi buon Natale, buone feste! Buon Capodanno! Buona Befana! Mentre Codio sta facendo questo, colco l'occasione di presentare la nostra regia Totto clown! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ok, questo è il massimo che sa dire... Eh, l'abbiamo insegnato un po'. Attenti ai clown! Eh, esatto Adesso noi metteremo in pentola e per quanti minuti? Totto Quando è verde Quando è verde la carne è pronta Ok? Noi ci vediamo a questo punto con le patatine o durante la cottura o durante la mia masturbazione